Musica Proseguono gli interventi di sanificazione delle strade della città. Questa mattina, alla presenza del sindaco De Magistris e dell'assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice, grazie anche alla collaborazione della Col di Retti, con alcuni trattori sono state sanificate numerose strade di Scampia, tra cui la zona del cantiere per l'abbattimento delle vele, il rione Don Guanella, rione Monterosa ed altre. Gli interventi proseguiranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni in tutte le municipalità cittadine, anche grazie ai cinque trattori messi a disposizione dalla Col di Retti, che affiancheranno i mezzi di Asia, Napoli Servizi ed ABC.